Senatore Zanda per l'ampia esposizione. Visto che ci sono qui due importanti rappresentanti per il SIS, se c'è qualcuno in sala che vuole, per votare qualche dubbio ed altro, fare qualche domanda... Una domanda per il Senatore Zanda. Io mi chiamo Angelo Cristofanelli, sono un blogger. Signore, io non le chiedo su come sia stato scritto l'articolo 70, non le chiedo nemmeno sull'articolo 138. E se non non la sentono? Forse basta girarsi. Mi giro allora. Dunque non le parlo, come le ho detto, dell'articolo 70 e dell'articolo 138. Però lei ha sorvolato quello che è uno dei grandi dibattiti, e cioè l'incidenza dell'italicum su questa cosa. Ma io non voglio chiederle neanche di questo. Le voglio chiedere solo una cosa. C'è qualcosa che dà veramente fastidio ed è la migrazione all'interno del Parlamento. Perché non siete intervenuti sul vincolo di mandato? Affinché un parlamentare, eletto con un partito, con un programma, poi all'improvviso scopre che non ci sta più bene, passa al gruppo misto oppure addirittura fa un altro gruppo e passa nella posizione contraria da quella nella quale si trovava quando è stato eletto. Grazie. Se ci sono magari altre domande, così le accorpiamo un po'. E in questo lato il senatore Zanda o il professor Cercanti magari potranno rispondere. Andiamo a una in modo che viene tutto domanda e risposta. Allora, un attimo. Rispondo perché le domande non erano una, erano quattro domande, tre retoriche e una effettiva. Allora, e quindi rispondiamo a tutte e quattro in modo veloce. L'articolo 70 è un articolo molto più lungo dell'articolo 70 attuale perché è cambiato il sistema. L'articolo 70 attuale prevede che Camera e Senato facciano la stessa cosa, quindi ha bisogno di una riga. L'articolo 70 nuovo ha bisogno che vengano descritte tutte le funzioni che rimangono alla Camera e le funzioni del Senato. È molto più breve dell'articolo corrispondente, l'articolo 70 del sistema tedesco, è molto più breve degli articoli corrispondenti, l'articolo 70 delle altre riforme, le riforme Berlusconi e la riforma D'Alema. È naturale che se le funzioni si moltiplicano, l'articolo deve essere molto più lungo. Poi l'articolo 138 non so cosa c'entri, questa riforma è l'unica delle riforme ultime che ha usato l'articolo 138, è una riforma fatta con l'articolo 138. La legge elettorale, che cosa posso dire di più? Abbiamo detto che siamo pronti a cambiarla in ogni suo punto contestato, abbiamo fatto una commissione, l'abbiamo firmato, messo la firma, la firma l'ha messa il Presidente del partito, l'ha messa il Vice Secretario del partito, l'hanno messa i due capigruppo di Camera e Senato, l'ha messa il Cuperlo dell'opposizione e abbiamo firmato l'impegno a cambiare la legge elettorale. Più di questo, francamente, non possiamo fare a 20 giorni dalle elezioni. Il vincolo di mandato, io posso dire perché io non l'ho proposto, io sono al contrario. Io penso che i costituenti, saggiamente, anche, diciamo così, spinti da un'esperienza in cui c'era il vincolo di mandato, che per 20 anni aveva il vincolo di mandato e che ha tenuto tutti col vincolo di mandato in camicia nera a votare quello che gli diceva il Coro. Io non sono d'accordo, Berlusconi aveva proposto, qualcuno di voi lo ricorderà, che in Parlamento votasse soltanto un soli capigruppo. Forse mi potrebbe far comodo, devo dire, io sono contrario. Sono contrario sia a chi voti un soli capigruppo sia all'abolizione del vincolo di mandato, libertà del vincolo di mandato. Quindi questa è la ragione. Posso dire una cosa? Due cose, anzi, la prima è questa, il senso del Zanda, quale sarebbe la soluzione se ne mettessimo un vincolo di mandato? Che se un parlamentare abbandona il PD, esce dalla Camera e Zanda o Renzi dicono che fa il parlamentare al posto suo? Il primo non è letto. Vabbè, ma, vedete conto, vuol dire che noi diamo al segretario del partito, al capogruppo, c'è Grillo che va un via uno dal gruppo e lui si sceglie il successore. No, se lo sceglie. Se lo sceglie, ho capito, ma è un meccanismo fortemente partitocratico. Un conto è dire che c'è un problema, un problema anche morale, che si possono studiare gli accorgimenti, magari i regolamenti parlamentari, impedendo che nascono dei gruppi in corso di legislatura. Un conto è il toglie in costruzione e divieto i mandati. Il vincolo di mandato ce l'avevano i paesi fascisti e i paesi comunisti. Se dispiacevano il partito, li cacciavano il Parlamento. Non c'è nessuna costruzione democratica. No, l'altro punto, però, sull'articolo 70, dopo tutti questi dibattiti, io ho dato una tesi di laurea e ho mandato una delle mie più bravi laureate negli studi, negli uffici della Camera dei Deputati, e gli ho detto mi prendi per favore le leggi degli anni 2013, 2014, 2015 e mi dici se c'erano dei problemi a piazzarle dentro l'articolo 70. Perché l'articolo 70 prevede due procedimenti. Uno che prevale la Camera, fa Camera, Senato, Camera, e l'altro invece resta paritario, per esempio solo la revisione costituzionale per motivi di garanzia. Beh, lei mi ha preso, insieme ai funzionali della Camera, perché non è facile, tutte le leggi del 2013, 2014, 2015, non ha avuto nessun problema a piazzarle tutte, sono centinaia di leggi, nessun problema. Viene fuori che il 97% delle leggi sono a prevalenza Camera, le 3 sono bicamerali paritarie. Abbiamo pubblicato da due mesi sul mio blog l'elenco delle leggi che ho spiegato dove va, no? Non uno di quelli che sostiene il no è stato in grado di dire che quell'elenco è sbagliato, che c'era un'incertezza e che le leggi andavano da un'altra parte. Questo a volte l'imperia, i nudi fatti spiegano molto di cui tante cose. Grazie. Applausi. Grazie.